Il segreto, febbraio 2018, Beatriz in pericolo. Gli spoiler ci rivelano che il socio di Hernando Dos Casas cercherà di abusare dell'ex fidanzata di Matthias. Bene ritrovati con il consueto appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla famosa sua poppera iberica Il Segreto. Vi anticipiamo che negli episodi, che vedremo in Italia nella prima metà di febbraio 2018, la figlia di Hernando Dos Casas si troverà in pericolo. L'incidente di Marcello. Nelle prossime puntate che andranno in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset in questi giorni, i telespettatori assisteranno al triangolo amuroso tra Matthias, Beatriz e Marcella. In particolare il figlio di Emilia e Afonso inizierà una relazione clandestina con la sua ex fidanzata. Purtroppo Emilia dopo aver visto un disegno della piccola Belen, sospetterà che il figlio abbia tradito la moglie, fortunatamente Matthias per non essere smascherato, dirà alla madre di essersi sbagliata. In seguito quest'ultimo farà credere a Marcella di doversi recare nei pressi del burrone delle aquile per aiutare un amico, invece trascorrerà una notte passionale con Beatriz, purtroppo Marcella dopo aver appreso dal fotografo ortono l'arrivo di una tempesta, si recherà nel bosco per avvisare il marito. Sfortunatamente la moglie di Matthias sarà travolta da un albero, e resterà gravemente ferita, quest'ultimo quando tornerà a casa, si metterà immediatamente alla ricerca della moglie. La terribile intenzione di Aquilino Come vi abbiamo appena raccontato, purtroppo Marcella a causa di Beatriz avrà un incidente, Matthias dopo questo terribile avvenimento, lascerà per sempre la figlia di Ernando. Non è ancora finita, perché nei prossimi episodi la vita sentimentale di Beatriz sarà stravolta nuovamente, in particolare a Puente di Eio arriverà il misterioso impresario Aquilino Benegas, che dopo essere diventato il proprietario dell'azienda del Dos Casas, inizierà a corteggiare l'ex fidanzata di Matthias. Avete capito perfettamente, Beatriz dopo l'ennesima delusione d'amore, si rifuggerà tra le braccia di un uomo sposato, purtroppo i Dos Casas non la prenderanno affatto bene, perché diranno alla loro figlia di troncare la relazione illecita. Dopo aver riflettuto a lungo, e soprattutto grazie ai consigli dei suoi genitori, Beatriz prenderà le distanze da Aquilino, quest'ultimo avrà una bruttissima reazione, perché porterà la giovane nell'abitazione in cui avvenivano i loro incontri, per abusare di lei. Per fortuna vi possiamo comunicare che alla figlia di Hernando non accadrà nulla, grazie all'intervento provvidenziale di Matthias e Marcela, in particolare quest'ultima impedirà al perfido Aquilino di uccidere il marito. Per ricevere ulteriori anticipazioni su questa telenovela, seguite il canale del segreto sempre aggiornato. Grazie